Con una targa e la cerimonia nella sede della Massima Sise Cittadina, il Comune di Umbertide ha voluto ringraziare i cittadini umbertidesi che venerdì 17 luglio hanno contribuito a salvare la vita del signor Massimo Valdambrini, anziano invalido che era rimasto intrappolato nella sua abitazione di via Pitulo dove era scoppiato un incendio. L'amministrazione comunale ha infatti testimoniato la riconoscenza e la gratitudine della famiglia di Valdambrini e dell'intera cittadinanza nei confronti di Lucia Tivado Salgado, Cristian Cruciani, Said Daanui e dei militari Fabrizio Angeloni e Mauro Castangia che la sera del 17 luglio non hanno perso tempo e con estremo coraggio e grande altruismo si sono addentrati nell'abitazione ormai in fiamme per salvare l'anziano. Con questo attestato di riconoscenza civica vogliamo dire grazie a coloro che chiedendo aiuto in strado o entrando nell'abitazione in fiamme hanno tratto in salvo Massimo Valdambrini, ha detto il sindaco Marco Locchi. Avete dimostrato coraggio e altruismo mettendo a rischio la vostra vita per salvare quella di un'altra persona. Senza il vostro pronto intervento l'incendio si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Queste le parole del sindaco Locchi che ha personalmente consegnato ai protagonisti del salvataggio le targhe di encomio. Presenti alla cerimonia anche il comandante della compagnia dei carabinieri di Città di Castello, il capitano Alfredo Cangiano e il comandante della stazione di Umberti del maresciallo Antonio Raganato. Presenti anche i figli di Massimo Valdambrini, Giovanni e Fabio. Credo. Presenti auch.